E' martedì 26, è una splendida giornata a Tokyo e ci siamo quasi ripresi dal jet lag. Qui di fronte la stazione del metro Shinagawa Station. La metropolitana e ovviamente non è l'ora di vita. Gli amici dello staff giapponese al lavoro. Mi piacerebbe che il pubblico italiano imperasse una parola giapponese ogni giorno. Qual è la parola di oggi, Missa? E allora innanzitutto Arigato. Arigato? Cosa vuol dire? Grazie. Grazie, Arigato. Perfetto. Anche a non essere sentimentali e entrare nel backstage del Bunkakai Khan fa venire in mente moltissimi ricordi della nostra tournée del 2010. Allora c'era in scena Traviata e Bohème quest'anno Tosca e Ballo in Maschera. Gianandrea Noseda dirige la prova al pianoforte. In primo piano il regista di Tosca, Jean-Louis Grandin. Impegnati nella prova, Lado Ataneli Scarpia e Patricia Arasetti, Tosca. Insistiamo! Non vedo l'occhio! No vedremo sì! No, bam, bam! Visto, qua! Easy, easy, easy. Grazie! Vabbè, se provo un po' di cose, mi daremo la canta. Davanti all'ingresso del Bunker Kaikan con i meravigliosi colori dell'autunno giapponese si chiude la seconda puntata di Pilo di Passione Regio Japan Tour. A presto, Paola Giunti, Teatro Regio, Tokyo. A presto, Paola Giunti, Teatro Regio.